I colleghi sono stati presentati 678 emendamenti alla proposta di direttiva sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese e nella filiera alimentare. Ancora una volta devo ringraziare tutti gli scedo e tutti i tecnici che hanno lavorato perché in 42 emendamenti di compromesso, di cui 30 sugli articoli e 12 sui considerando, è stato fatto un importante lavoro di squadra e credo di poter dire che tutti i gruppi politici sono d'accordo su questi emendamenti di compromesso. Abbiamo una sola distinzione, come è stata anche rappresentata qui dalla collega Katainen, del gruppo ALDE su alcuni di questi emendamenti di compromesso, ma la grande maggioranza hanno il supporto di tutti i gruppi. Quindi mi permetto di ricordare ancora una volta a tutti quanto è importante riuscire ad approvare questa direttiva entro la fine della legislatura. C'è una grande aspettativa, lo abbiamo visto anche in questo dibattito. Non possiamo rischiare di perdere questa opportunità, per cui noi abbiamo già fissato subito dopo il voto in plenaria, che vi ricordo sarà la settimana di Strasburgo del 22 di ottobre, e di iniziare subito i triloghi già da quella settimana per riuscire ad avere un accordo politico entro Natale con il Consiglio e con la Commissione. Voglio ricordarvi, adesso accenno solo alcune cose, non voglio se non la farei troppo lunga, che il lavoro negli emendamenti di compromesso ha anche affrontato un tema che riguarda l'elenco delle pratiche sleali. E' un tema che ha raccolto ben 200 emendamenti, solo questo, solo l'articolo 3. Noi abbiamo cercato di, e in questo ci siamo consultati spesso anche con la Commissione, abbiamo cercato di chiarire la definizione il più possibile, per poter poi lasciare, come è stato anche ricordato in questo dibattito, per poi lasciare agli Stati membri di andare oltre. E lo diciamo proprio nel testo, gli Stati membri possono andare oltre. Tuttavia la pressione politica di tutti i gruppi e di questi 200 emendamenti ci ha portato a allargare il campo delle 4 più 4, 4 pratiche sleali cosiddette bianche e 4 grigie. Le 4 nere noi le abbiamo allargate sui contratti scritti. Attenzione, contratti scritti non obbligatori per tutti. Perché questo avrebbe creato sicuramente problemi con molti Stati membri. Noi diciamo che i contratti scritti sono, se richiesti dal fornitore, l'acquirente non può rifiutarsi. Quindi possono essere fatti i contratti anche non scritti, ma se il fornitore li chiede, l'acquirente non può rifiutarsi. Questa è una delle pratiche che noi allarghiamo. La seconda riguarda il rischio dell'abuso di informazioni sensibili da parte dell'acquirente. Voi sapete bene che c'è tutto il dibattito che noi non apriamo questa direttiva sulle private label. Sarebbe interessante. Magari lo faremo in un altro profedimento. Ma certamente ci si trova nelle condizioni che alcuni acquirenti sono concorrenti e acquirenti dello stesso prodotto. E questo può provocare, diciamo, la necessità di regolare bene l'uso delle informazioni sensibili da parte dei fornitori. E sempre nelle pratiche cosiddette del primo blocco, pratiche bianche o nere, come vogliamo chiamarle. Nel secondo blocco invece includiamo le vendite sotto costo. Tema chiesto da moltissimi gruppi. Ci rendiamo conto che è un tema difficile. Ma come posizione del Parlamento nell'emendamento di compromesso le vendite sotto costo saranno incluse. Dopodiché è ovvio, sappiamo anche che pende una sentenza alla Corte di Giustizia sulla legge spagnola. Ci sono difficoltà su questo punto. Però la pressione è stata tale per cui noi non abbiamo potuto non tener conto di un importante volume di emendamenti esattamente su questo punto. Ecco, io non voglio andare molto oltre. Vi dico solo che la partita inizia il primo ottobre. Dopodiché, colleghi, è evidente che tra il primo ottobre e il voto in plenaria ci sarà tantissima pressione su ciascuno di noi. Io mi auguro davvero di riuscire insieme a voi ad avere una posizione del Parlamento forte, la più ampia possibile. che mi consenta di andare poi ai triloghi forte di una posizione largamente condivisa. Perché il lavoro che stiamo facendo, credo che accanto al lavoro che abbiamo fatto con il regolamento Omnibus, sia davvero un completamento di un percorso per rendere più forti, più competitive, più capaci di resistere alle insidie di un mercato globale e competitivo ai nostri agricoltori. Quindi mi auguro davvero che ci si possa, anche in questo caso, fare un gran gioco di squadra. Io mi fermo qui, Presidente, ma naturalmente se poi i colleghi vogliono entrare nel dettaglio sapremo come rispondere. Grazie.